Un applauso, vai! Eee, a sera! O fino magari qualcuno di voi avrà il prossimo talento! Ah, buonasera! Oh, direttamente dallo ghiaccio! Oh, il genio della lampada! Allora, genio, è water! Ci ha guardato come... Allora, genio! Faccio alla di nuovo, chi vuoi? La scimmietta o... Allora, io e lui abbiamo già avuto un piccolo incontro per il show, l'ho fatto soffrire, adesso me la farò pagare, ma hai un talento che ci presenti questa sera, qual è il tuo talento? Sempre vicino... Il talento di qualcun altro, però provo a portarlo, quello di Gregori che ha ceduto a Vasco, che poi ha ceduto a me, Vasco direttamente. E' un acedolino, poche parole. E' un acedolino. Eh sì, la canzone di Gregori... Ah, quindi canti una canzone questa sera. Allora, non hai bisogno testo perché tanto non entra... La versione bucolica faccio io. Allora, ridini bene il titolo della canzone? Generale. Allora, quindi lo presentiamo ufficialmente con... Generale canta il nostro... No, chi sei? Pino il bambino. Pino, Pino, sei sempre Pino. Perché c'ho due pini, allora dove è? Allora, il nostro Pino, un applauso! Insomma, che si illumina la testa con tu? Buonasera, benvenuti all'Ottenitore del locale D'Otranto, è in attesa di parlare con l'operatrice con l'operatrice numero 37, attendere prego generale, generale dietro la collina, sarà notte, c'è una contadina, curva sul tramonto c'è una bambina di 50 anni e 5 figli, venuti al mondo come coni, partiti dal mondo come soldati, non ancora tornati 50 anni e 49 anni, guarda eh bravo buonasera e ci vediamo queste cinque stelle, queste cinque lacchine sulla mia pelle che senso ha che sonore di questo treno è in mezzo vuoto e in mezzo pieno e va veloce verso il ritornio a due minuti qua ci ciò per quasi canto è quasi amore è quasi amore era quasi amore ma non torna la contagina adesso è buonica la contagina perché ti piace un po' delle frasi a super tra sinistro c'è Pino con Generale queste cinque stelle queste cinque lacrime sulla mia pelle che senso ha un altro rumore di questo tren è messo vuoto è messo pieno è tan veloce è come il tuo ormone tra due minuti ci sono le cascate è quasi amore è due volte oh è sposato è capito ma io non è prima donna è giocata alla prova del cuoco non si vedono i miei occhi azzurro oltre mano guarda io taglierei perché si tagliamo per di qua vieni che ti porto a pagare la costruzione vieni signori signori un applauso al nostro Pino vieni tornate si si generale spara spara no e va scusa mi arreddo mi arreddo complimenti Pino una voce profonda una voce profonda a me è piaciuto molto ma sentiamo il giudizio della nostra giuria vieni un pochettino un po' più avanti qui con te oh allora eh guarda però diciamo che il testo è quasi amore e questo era un po' quasi testo beh non è che c'era proprio a testa però beh ma non è colpa sua scusa era già scritta si è emozionato aveva la nostra nebola ah capito guarda allora ti devo dire bravo libero interpretativo ma almeno mi ha convinto molto questa interpretazione quindi no ti devo dare no ai 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 ma hai ancora una chance perchè con due potresti lo stesso allora non è facile cantare questa canzone non è facile eh andare a tempo eh perchè è una versione particolare della canzone generale che conosciamo tutti e purtroppo ti dico di no solo perchè non sei al livello degli altri artisti che abbiamo visto quindi mi dispiace un no anche per voi ahia due no senti il mio si purtroppo non vale niente però anche se c'è qui tua moglie non posso niente altro se non 3 3 8 4 2 no per favore andiamo avanti vai bene purtroppo purtroppo non passa la fase finale ma ti sei trovato una nuova donna un applauso al nostro Pino grazie 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 a Pino perchè siamo già pronti per farlo